bravo l'albero ti sembrava vicino? l'albero ti sembra di far vedere 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 è tutta un'altra storia da quelli di prima c'è tutta un'altra storia sembra facile bravo sembra facile ho paurata è questa cazza c'era? c'è 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 Sì. La so stracca, basta. No, non riesco più a guidarla, basta. Bravo, eh eh eh. Si è buttato qua per evitare la pianta. Eh, comunque te lo vedi e magari non lo prendi ma lo vedi lì. No, no, vai tranquillo, passa di qua. Non ce l'ho più riconosciuto. Ok, lo taglieremo. Vai Sergio. Estudio. Sì. 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 sembra facile ma è tutto da guidare perché anche quel legno lì ti porta fuori poi ti sbilancia e dopo venire su fino a qua è tutto un programma è tutto un po' Oh, oh, oh! Grazie a tutti. Vai Sergio. Grazie a tutti. Bravo. Vai Michele. vai bravo bravo è bello perché te lo trovi giù no? si te lo trovi giù si stai andando a prendere le peccole non capito da che è pericoloso non ne metto lì no, quello grosso vai, vai, gas, gas, gas bravo non capito da che è pericoloso non capito da che è pericoloso non capito da che è pericoloso